Si fa un gran parlare di autolisi, tutti fanno l'autolisi, l'autolisi è importante soprattutto nelle farine di forza, a differenza di quello che tutti dicono e di quello che vocifera sul web, una propria funzione particolare, una funzione particolare perché voi sapete che a contatto dell'acqua e della farina immediatamente si sviluppa e si comincia a mettere in moto la fermentazione. Quest'autolisi che comunque può andare dai 30 minuti alle 3 ore perché ci aiuta a scomporre molto prima, ad attivare prima i processi, differenza invece di quello che si dice e lo dico anch'io. L'utilità su delle farine leggere è esclusivamente perché con 30-40 minuti di autolisi, non necessariamente in frigo, alcuni la mettono anche in frigo ma non serve assolutamente, non è quello il punto, anzi non dobbiamo superare questi tempi, è proprio perché avendo comunque già un'azione fermentativa, uno sviluppo del glutine e del processo di fermentazione in una farina debole, se si prolunga troppo rischiamo appunto di avere poi un prodotto che non controlliamo più, nel senso che ci va fuori dedicazione. E infatti si vedono cacate pazzesche proprio per questo motivo, proprio perché tutti consigliano l'autolisi, pensando di far bene con delle farine deboli e con delle farine come si suol dire di grani e tichi, abbiamo un glutine molto leggero, sviluppano poco, quindi quell'autolisi già comincia a fare una sorta di fermentazione e quando andremo ad impastare avremo un prodotto assolutamente scadente. Quindi se avete delle farine molto forti, quindi io per farine molto forti intendo dai V300 fino ai 2340, in quel caso è molto utile perché aiutiamo i nostri lieviti che andremo a inserire poi nell'impasto in un secondo momento, quindi quando andremo a fare l'impasto vero e proprio, aiuteremo i nostri lieviti a trovare già pronto proprio all'azione dei lieviti. Quindi vorrei un attimo smontare tutta questa cosa nelle farine deboli che stanno sotto ai V280, ai V230, ma soprattutto nei grani antichi che sono di media una V100, una V90, una V120, non di più non possiamo trovare, dobbiamo invece andarci molto piano, ci aiuta un 30 minuti per poter incordare prima. Ok? Allora vi saluto e spero che questa piccola pillola vi sia utile. Grazie a tutti.